Sono i musici di Brahminti. Nel film c'è la storia di 4 animali alti fermi, un don, un dog, un uomo e un cocco. Un giorno il maestro dice che il mio don è vecchio e fuori ora. Non lo voglio più. Il povero vecchio don ha deciso di rinforzare. Posso giocare il ricordatore a tutti. Posso essere un musicista qui. Il don ha trovato un uomo vicino alla città. Il mio don non lo voglio più perché è vecchio e fuori e non può andare a andare. I due nuovi amici vivono in Brahmintown perché il uomo è buono a spaventare i drum. Nel film c'è il don e il uomo parlano con il cuore. Il uomo ha detto che il suo uomo non vuole un animale. Il suo uomo è vecchio e non può prendere i animali. Ma il uomo è vecchio e sta prendendo la città. Quindi si vive in Brahmintown con loro. I due amici trovano un uomo. I due amici trovano un uomo. I due amici trovano che il suo uomo non lo vuole perché è vecchio. Poi vivono in Brahmintown insieme perché il uomo è un buon cantante. I due amici trovano molto freddo e freddo. Quindi vedono un uomo vecchio in la foresta. I due amici trovano qui per la notte. Ma quando il don e il uomo si guardano all'interno è facile per i robbi. Sittano a una tavola con un po' di soldi e l'argento. Siamo affrontare i robbi, dice il uomo. Ho un plan, dice il don. Il uomo può stare su me. Tu puoi stare sui uomo. Il uomo può stare sui uomo. E il uomo può stare sui uomo. Poi possiamo guardare nella città. E fare un po' di ruolo. E questo è quello che fanno. Quando i robbi vedono un po' di ruolo. Si guardano dietro la città. E si sentono freddo. Quindi iniziano a rinforzare. I robbi pensano che c'è un uomo fuori. Quindi si apriano la porta e rinforzano. Ora i miei amici hanno un'uomo e un po' di money. Sono vecchi e fuori, ma fuori. A presto. 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 A presto.